Vittorio Sgarbi, figlio dei farmacisti Giuseppe Sgarbi 1921-1818 e Rina Cavallini 1926-1015 e fratello maggiore della regista e scrittrice Elisabetta Sgarbi 1956, è cresciuto a Rò Ferrarese. Dopo il diploma a Ferrara, ha conseguito la laurea in filosofia con 110-110 e l'ode presso l'Università di Bologna nel 1974, dove ha poi completato un perfezionamento in storia dell'arte. Nel 1977 è stato assunto come storico dell'arte presso la soprintendenza ai beni storici e artistici del Veneto. Dal 2019 è in pensione per raggiunti limiti di età. Ha insegnato per tre anni come docente a contratto all'Università di Udine e, nel 2022, è stato nominato per Chiara Fama professore ordinario di storia dell'arte moderna presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università Core di Enna, senza tuttavia prestare servizio a causa dei limiti di età. Celibe ha riconosciuto tre figli, una figlia nata nel 1998, un figlio nato nel 1988 e un'altra figlia nata nel 2000. Nel 2 Mundici la Corte d'Appello di Ancona gli ha attribuito la paternità di una terza figlia di 13 anni avuta da una cantante lirica. In quell'occasione ha dichiarato di credere di avere almeno 40 figli. Parallelamente alla sua carriera politica, Vittorio Sgarbi continua a dedicarsi all'arte, commentando in videocassetta le opere di importanti pittori e scrivendo numerosi saggi e libri specializzati. Tra le sue pubblicazioni più rilevanti si annoverano Carpaccio 1979, I capolavori della pittura antica 1804, La stanza dipinta 1899, Davanti all'immagine 1090, edito da Rizzoli e vincitore della 37esima edizione del premio Bancarella, Onorevoli Fantasmi, 1924, Lezioni private, 1995, Lezioni private 2, 1996, Davanti all'immagine 2005, Ragione e passione, Contro l'indifferenza, 2006, e Clausura a Milano, da Suor Letizia a Salemi, 2008, scritto con Marta Bravi. Negli anni 2000, Sgarbi viene nominato presidente dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, nel 2005, carica che ricopre fino al 2013, tuttavia nel 2008-2008 un'introduzione da lui scritta per un volume su Botticelli viene riconosciuta come Plagio, in quanto copiata da frasi della storica dell'arte Mina Bacci pubblicate in un fascicolo dei Maestri del Colore. È inoltre editorialista del quotidiano Il Giornale e cura una rubrica settimanale su Panorama e una quindicinale su Io Donna. Nel 2010 viene nominato soprintendente della soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare, ma la nomina viene annullata tre volte dalla Corte dei Conti e Sgarbi si dimette dall'incarico nel 2014. Nel 2211 è incaricato dal Ministero per i beni e le attività culturali come curatore del Padiglione Italia e dei padiglioni regionali per la 54esima esposizione internazionale d'arte di Venezia, organizzata dalla Biennale di Venezia. In questa occasione dipinge un quadro completato insieme al pittore Salvatore Garau. Inoltre viene nominato presidente della Fondazione Gino de Dominicis, ma affronta polemiche e dispute legali con l'Associazione Gino de Dominicis, l'Archivio Gino de Dominicis e la Fondazione Gino de Dominicis riguardo all'autorità culturale e legale sull'ordinamento del lavoro dell'artista scomparso nel 1998. Nel 2014 Sgarbi è designato dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, come ambasciatore dell'Expo 2115 per le belle arti e nominato rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di amministrazione della Fondazione di diritto privato Bagatti Valsecchi di Milano, responsabile della gestione del Museo Bagatti Valsecchi. Nell'aprile 2019 viene nominato presidente del Museo d'Arte Moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Nel 2115 Vittorio Sgarbi è stato protagonista di una vivace polemica riguardante il possibile prestito dei bronzi di Riace all'Expo 2115. Dopo il diniego dei responsabili del Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria, basato su un parere negativo riguardo alla trasportabilità delle statue da parte dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, Sgarbi ha accusato le statue di essere ostaggio dell'andrangheta e del pregiudizio che siano inamovibili, aggiungendo che non c'è nulla di più movibile dei bronzi. Per ottenere il prestito, Sgarbi e Roberto Maroni hanno sollecitato l'intervento del Ministro per i beni culturali, Dario Franceschini. Tuttavia, la commissione ministeriale presieduta dall'archeologo Giuliano Volpe dell'Università di Foggia ha confermato l'intrasportabilità delle statue e tale conclusione è stata accolta da Franceschini, chiudendo la polemica. Vittorio Sgarbi è emerso come personaggio televisivo a partire dal 1987, diventando ospite ricorrente del Maurizio Costanzo Show, dove alternava lezioni d'arte a discussioni accese con altri ospiti. A seguito di una celebre lite, è stato condannato a pagare una multa di 60 milioni di lire. L'uso della polemica per costruire il suo personaggio televisivo è stato anche rappresentato nella serie a fumetti Alan Ford, dove il personaggio insulto-ingiuria è chiaramente ispirato a Sgarbi. Nel 1989, durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, Sgarbi augurò la morte al critico d'arte Federico Zeri, affermando «Io odio Federico Zeri e desidero la sua morte». Sgarbi dichiarò che Zeri aveva chiesto il suo licenziamento, convinto della sua colpevolezza, riguardo alle accuse della contessa Pia Bressanin della Rovere. La contessa sosteneva che Sgarbi l'avesse persuasa a consegnargli un quadro di Giovanni Agostino da Lodi, la cena di Emmaus, che il critico aveva riconosciuto nel museo civico Luigi Bailo di Treviso, dove la contessa lo aveva affidato anni prima. La sua apparizione televisiva nei primi anni 90 fu generalmente accolta come una novità, senza fonte, sebbene alcuni, come il critico televisivo Beniamino Placido, riconoscendo il fascino che il personaggio esercitava su un vasto pubblico, criticassero l'autorevolezza di Sgarbi come critico d'arte e il suo stile poco ortodosso di divulgatore, definendolo «il fatuo magico». Dal 1992 al 1999, Sgarbi condusse il programma Sgarbi Quotidiani su Canale 5. In una puntata, per protesta contro Silvio Berlusconi, a causa del divieto di criticare il Cavaliere durante la campagna elettorale del 1994 sulle reti Fininvest, rimase in silenzio per l'intera durata della trasmissione, ben 15 minuti. Berlusconi aveva dichiarato «Alla prima che mi fate vi licenzio e ve ne andate». Alla fine della puntata, Sgarbi mostrò ai telespettatori un foglio con scritto «Basta sì». Quella puntata fu seguita da 3 milioni e mezzo di spettatori, ottenendo il 20% di share. Un altro record di ascolti fu raggiunto senza fonte nel dicembre del 1997, con una puntata girata in esterna, durante la quale Sgarbi fu intervistato dal giornalista Antonio Panei. L'episodio riguardava la restituzione delle sculture raffiguranti tre teste, trafugate dal luogo del martirio di San Paolo e ritrovate da Sgarbi, ai monaci trappisti dell'abbazia delle Tre Fontane. Nel 1998 Sgarbi tentò di rompere l'embargo internazionale contro la Libia di Gheddafi, violando il blocco aereo e atterrando a Tripoli con due piccoli piper partiti da Lampedusa. All'impresa parteciparono anche l'editore Niki Grauso, l'esperto d'arte Peter Glidewell, il regista Filippo Martinez e il giornalista Francesco Battistini del Corriere della Sera. Poco dopo Sgarbi ebbe l'opportunità di doppiare un personaggio dei Simpson, il gestore del banco Il Lancio degli Anelli, nella puntata Bart Giostraio. Nel 2006 Vittorio Sgarbi è stato membro della giuria della prima edizione del reality show La Pupa e Il Secchione su Italia 1. Tuttavia è stato espulso dal programma a due puntate dalla conclusione a causa di una violenta disputa con un'altra giurata, Alessandra Mussolini. Nel 2010 ha ricoperto il ruolo di giurato in due programmi. Il più grande italiano di tutti i tempi, condotto da Francesco Facchinetti su Rai 2 e la seconda edizione di La Pupa e Il Secchione, condotta da Enrico Papi e Paola Barale su Italia 1. Il 18 maggio 2011 ha condotto un nuovo programma su Rai 1, ci tocca anche Vittorio Sgarbi, che ha ottenuto ascolti molto bassi già alla puntata di debutto, 2.064.000 telespettatori, 8,27%. A causa di questi risultati insoddisfacenti, il programma è stato cancellato dopo una sola puntata. In seguito, Sgarbi ha dichiarato «Ho sbagliato io, ora chiudiamo». Durante la trasmissione, dedicata al tema della paternità, il critico d'arte ha criticato anche le forme di energia eolica e solare. Nel 2015 è stato ospite fisso nella trasmissione «Virus, il contagio delle idee», un talk show politico su Rai 2, dove ha avuto uno spazio dedicato all'arte e alla cultura all'inizio di ogni puntata. Dopo aver ricoperto il ruolo di direttore artistico del festival estivo Asti Teatro dal 1999 al 2000, Sgarbi ha esordito come regista teatrale nel 2002 con l'opera «Rigoletto», prodotta dalla Fondazione Arturo Toscanini. Nel 2009 ha avviato una tournée teatrale intitolata «Sgarbi l'altro». Nel 2010 ha realizzato uno spettacolo teatrale in collaborazione con il pianista Nazareno Carusi, intitolato «Discorso a due», dedicato agli anni di pellegrinaggio di Franz Liszt e alle opere di Michelangelo e Dante, che hanno ispirato i suoi maggiori capolavori. Il punto culminante di «Discorso a due» è stato l'esecuzione del melologo ideato da Carusi, che combinava la sua esecuzione della «Fantasia quasi sonata» dopo una lettura di Dante con la lettura del quinto canto dell'Inferno di Dante da parte di Sgarbi. Per questo progetto Sgarbi e Carusi hanno ricevuto il premio Lunezia nel 2211. Nel 2115 Sgarbi ha debuttato come autore e interprete con lo spettacolo teatrale «Caravaggio», che ha registrato il tutto esaurito senza fonte. Tra il 2022 e il 2023 ha messo in scena gli spettacoli Pasolini-Caravaggio e uno dedicato ad Antonio Canova. Politico noto per il suo frequente cambiamento di schieramento, tanto da essere definito da alcuni il più grande trasformista d'Italia, si è più volte dichiarato liberale e libertario, sostenendo la liberalizzazione delle droghe di ogni tipo. Nel 1975 si unì alla Federazione Giovanile dell'Unione Monarchica Italiana. Nel 1990 accettò la candidatura al Consiglio Comunale di Pesaro per il PCI, ma la sua candidatura venne respinta poiché aveva anche presentato la propria candidatura nelle liste del Partito Socialista Italiano. Rinunciò quindi alla corsa a Pesaro e si candidò al Consiglio Comunale di San Severino Marche con il Partito Socialista Italiano, risultando eletto e diventando sindaco della città dal 1992 al 1994, sostenuto dalla democrazia cristiana e dal movimento sociale italiano. Successivamente fu assessore del Comune dal 1996 al 1906 e consigliere comunale dal 1901 al 1906. Nel 1992 fu eletto deputato per il Partito Liberale Italiano nella undicesima legislatura, nella circoscrizione Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano, ottenendo 11.438 preferenze. In seguito si avvicinò al partito radicale di Marco Pannella, diventando alleato nelle coalizioni guidate da Silvio Berlusconi nel 1994 e nel 1996. Nel 1994 fu eletto deputato per Forza Italia nella circoscrizione Calabria, nonostante avesse perso nel collegio uninominale di Osimo con il 25,56% contro il 34,42% del candidato dei progressisti Luigi Giacco. Si iscrisse al gruppo misto e divenne presidente della settima commissione parlamentare, Istruzione. In questa legislatura fu coinvolto in una rissa con Umberto Bossi. Nel 1996 fu eletto alla Camera per Forza Italia nella circoscrizione Friuli-Venezia-Giulia, dopo aver perso dal candidato della Lega Nord, Eduard Ballaman, nel collegio uninominale di Sacile, 34,79% contro 42,52%. Anche in questo caso si iscrisse al gruppo misto. Il 21 marzo 1999 fondò il movimento Illiberal, Sgarbi, con l'intento di partecipare alle elezioni europee di quell'anno. Tuttavia il simbolo fu respinto perché includeva anche il logo del PSDI e l'ufficio elettorale della Cassazione non riconobbe Enrico Ferri come legale rappresentante del partito. Nello stesso anno si candidò a sindaco di Ferrara con il supporto di Forza Italia e di una lista radicale, ottenendo il secondo posto con il 26,2% dei voti, dietro il candidato di centrosinistra Gaetano Sateriale, che fu eletto al primo turno con oltre il 54% dei voti. Tuttavia fu eletto alle elezioni europee per Forza Italia nella circoscrizione Italia Nord-Orientale con 85.070 preferenze, lasciando il Consiglio Comunale di Ferrara. Pochi mesi dopo, il movimento Illiberal, Sgarbi si federò con Forza Italia, ma partecipò comunque alle elezioni amministrative e regionali del 2000 con il simbolo Liberal Sgarbi. Illibertari, eleggendo un consigliere regionale in Calabria con l'1,47% dei voti. Sgarbi fu candidato come consigliere regionale per la provincia di Reggio Calabria, ma con 218 preferenze non fu eletto. Nel 2001 Sgarbi fu rieletto deputato per Forza Italia nella circoscrizione Veneto I, nonostante la sua sconfitta nel collegio uninominale di Trieste Muggia contro il candidato dell'Ulivo, Riccardo Illi, 41,90% contro 51,79%. Dopo l'elezione si dimise dal suo incarico di europarlamentare. Assunse quindi il ruolo di sottosegretario ai beni culturali dal 2001 fino a giugno 2002, quando il Consiglio dei Ministri gli revocò l'incarico a causa di numerose polemiche e tensioni con l'allora ministro Giuliano Urbani. Il punto di conflitto fu l'opposizione di Sgarbi alla politica governativa sui beni artistici e culturali. Il governo, tramite il decreto Taglia Deficit, prevedeva la possibilità di trasferire beni statali a patrimonio spa e infrastrutture spa, aziende incaricate della gestione e della potenziale vendita di parte del patrimonio artistico a privati. Sgarbi, criticando l'assenza di un esplicito divieto di alienazione dei tesori artistici e culturali italiani, chiese le dimissioni di Urbani. La sua rinuncia avvenne con una breve nota in cui dichiarava, non potendo condividere metodi e destino di questo ministero, metto a tua disposizione tutte le deleghe. Palazzo Chigi rispose con un comunicato altrettanto conciso, affermando che sono venute meno le condizioni per la permanenza dell'onorevole Sgarbi nella carica e nelle funzioni di sottosegretario. La polemica tra Urbani e Sgarbi portò Urbani a esprimere giudizi piuttosto severi su Sgarbi, citando Federico Zeri che lo descriveva come narcisista presuntuoso, impreparato, superficiale. In precedenza Sgarbi era stato coinvolto in altre polemiche, tra cui l'apertura notturna dei musei per i suoi amici. Di fronte alle accuse, formalizzate in un'interrogazione parlamentare, Sgarbi si difese sostenendo che le visite notturne ai musei servivano a un controllo sui musei pubblici. Alle elezioni europee del 2004, Sgarbi si candidò con la lista Partito Repubblicano Italiano, i Liberal Sgarbi, nota anche come Partito della Bellezza, che però ottenne solo lo 0,7% dei voti e non portò all'elezione di alcun rappresentante. A livello personale, Sgarbi, candidato in tutte le circoscrizioni, ottenne un massimo di 9.300 preferenze nella circoscrizione Italia Meridionale. Nello stesso anno, durante le elezioni amministrative del 2004, Sgarbi si candidò alla presidenza della provincia di Grosseto con la lista Partito Repubblicano Italiano, i Liberal Sgarbi, ottenendo il 2,42% dei voti e non risultando eletto, con la vittoria che andò al candidato di centrosinistra Lio Scheggi. Si candidò anche a consigliere provinciale nelle elezioni di Belluno, nel collegio Cortina-Dampezzo-Livinallongo, del Col di Lanacolle-Santa Lucia, con la lista dei riformatori liberali a sostegno del candidato presidente Michele Bortoluzzi, 2,02%, e nelle elezioni provinciali di Cosenza, nei collegi Cosenza Prievo e Cassano a Lionio, a sostegno del candidato presidente Alessandro Fabiano, 1,28%, ma non ottenne seggi in nessuno dei due casi. Inoltre si candidò a sindaco di Pompei con la stessa lista, ottenendo il 4,44% e non riuscendo a entrare in consiglio comunale. Nel 2005 Sgarbi lasciò la Casa delle Libertà e si unì all'Unione. Propose la sua candidatura alle primarie della coalizione di centrosinistra, ma dovette ritirarsi a causa della regola che vietava la partecipazione alle primarie a chi avesse ricoperto incarichi politici nelle ultime due legislature guidate da Berlusconi. Alle elezioni politiche del 2006 decise di candidarsi con la lista consumatori, che sosteneva la coalizione di centrosinistra senza essere eletto, poiché la lista ottenne solo lo 0,19% a livello nazionale. Nel 2006 Sgarbi si candidò a sindaco di Milano, ma successivamente stipulò un accordo con Letizia Moratti, candidata della Casa delle Libertà, che prevedeva il ritiro della sua candidatura in cambio di un incarico in caso di vittoria di Moratti. Dopo la vittoria dell'ex ministro dell'istruzione, Sgarbi ottenne il ruolo di assessore alla cultura. Tuttavia, l'8 maggio 2008, Moratti revocò la nomina di Sgarbi a causa di un episodio in cui il critico d'arte aveva falsificato una delibera della Giunta Comunale per concedere il patrocinio a una mostra LGBT, che Moratti considerava imbarazzante per la cittadinanza. Il 30 giugno 2008, sostenuto dall'UDC, dalla DC e da una lista civica di centro, Sgarbi fu eletto sindaco di Salemi al ballottaggio con il 35,85% dei voti. Il 29 luglio, il Tar della Lombardia accolse il ricorso di Sgarbi contro il licenziamento dal Comune di Milano, reintegrandolo temporaneamente nelle funzioni di assessore. Tuttavia, Sgarbi si dimise spontaneamente dalla carica di assessore il giorno successivo alla decisione del Tar per evitare conflitti di interesse con il nuovo ruolo di sindaco di Salemi. Come sindaco, Sgarbi nominò il cantante Morgan assessore all'ebbrezza, Oliviero Toscani e Peter Glidewell assessori al nulla e un poliziotto assessore all'antimafia. Tra le sue iniziative ad agosto dichiarò Salemi prima capitale dell'Italia tibetana per esprimere solidarietà ai monaci tibetani e condannare le violazioni dei diritti umani da parte della Cina. Su proposta di Oliviero Toscani, assessore alla creatività del Comune, avviò un progetto per salvaguardare il patrimonio artistico della città vendendo a un euro le case di Salemi distrutte dal terremoto del Belice a chi volesse restaurarle e viverci. L'iniziativa attrasse l'interesse di diverse personalità, tra cui coniugi Moratti, il cantante Lucio Dalla, il ministro Renato Brunetta e l'esperto d'arte Filippe D'Averio. Alle elezioni europee del 2009, Sgarbi si candidò con la lista la Destra Movimento per le Autonomie Pensionati Alleanza di Centro nella circoscrizione Italia Insulare, ottenendo 23,334 preferenze, ma lo schieramento ottenne solo il 2,22% a livello nazionale, risultando insufficiente per ottenere seggi. Il 2 febbraio 2010, dopo un'indagine della Guardia di Finanza sull'uso illecito delle auto blu, Sgarbi preannunciò le sue dimissioni da sindaco di Salemi, ma tali dimissioni non vennero mai ufficialmente confermate. Durante il suo mandato fece istituire a Salemi un museo della mafia, dedicato a Leonardo Sciascia e inaugurato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Questo museo offre documentazione e materiale d'archivio per mantenere viva la memoria della storia oscura della Sicilia. Alle elezioni regionali del Lazio del 2010, Sgarbi si candidò nella lista Rete Liberal Sgarbi, appartenente alla coalizione di centrodestra per la provincia di Roma, ottenendo 2.188 preferenze personali. Tuttavia la lista raggiunse solo lo 0,63% a livello regionale e non conseguì seggi. Nel febbraio 2012, gli ispettori nominati dall'ex ministro dell'interno Roberto Maroni presentarono alla Commissione Tecnica del Viminale una proposta di scioglimento del Comune di Salemi per infiltrazioni mafiose. Sgarbi preannunciò le sue dimissioni da sindaco il 6 febbraio e si dimise ufficialmente il 15. Il 23 marzo il Consiglio dei Ministri sciolse l'amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose. Sgarbi contestò duramente la gestione del commissario straordinario Leopoldo Falco fino alla sua nomina a prefetto di Trapani e persino dopo la sua morte. Nell'aprile dello stesso anno Sgarbi si candidò a sindaco di Cefalù, sostenuto da tre liste civiche. Tuttavia i giudici lo dichiararono incandidabile sia al primo che al secondo grado in base all'articolo 143 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 che prevede l'incandidabilità per gli amministratori di enti sciolti per infiltrazioni mafiose. Nonostante ciò le elezioni si svolsero regolarmente il 6 e 7 maggio e Sgarbi partecipò come candidato a sindaco classificandosi al terzo posto con il 16,8 per cento dei voti rispetto al 34,5 per cento ottenuto dal sindaco eletto Rosario Lapunzina del Partito Democratico. Il 7 luglio 2012 Sgarbi fu nominato assessore alla rivoluzione del comune di Baldissero d'Alba, in carico che mantenne fino al 13 maggio 2014. Nel 2014 fondò il Partito della Rivoluzione Laboratorio Sgarbi. Con questo nuovo partito si ricandidò a sindaco di Salemi alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 ma fu sconfitto con il 28 per cento dei voti rispetto al 35 per cento ottenuto dal candidato del centro-sinistra. sempre nel 2014 venne nominato assessore alla rivoluzione, alla cultura, all'agricoltura, alla tutela del paesaggio e del centro storico del comune di Urbino. Il 21 dicembre 2115 minacciò di dimettersi in seguito a una polemica riguardante l'installazione di un albero di Natale non autorizzato e definito un'inutile bruttura immorale. Tuttavia non formalizzò mai le dimissioni e rimase in carica. Il 3 giugno 2015 annunciò la sua candidatura a sindaco di Milano per le elezioni comunali del 2016. Dopo aver tentato senza successo di candidarsi come rappresentante del centro-destra, il 10 febbraio 2016 rinunciò alla candidatura. Tra il 2016 e il 2016 e 17 Sgarbi fu assessore al comune di Cosenza con delega al centro storico per otto mesi. Nel 2017 fondò il movimento Rinascimento con un programma politico centrato sulla bellezza. Alle elezioni comunali di La Spezia, sostenne Giulio Guerri con la lista civica, un rinascimento per la Spezia. La lista ottenne il 6,25% dei voti al primo turno e il 0,97% al livello di lista, senza conquistare seggi. Al ballottaggio sostenne il candidato del centro-destra Pierluigi Peracchini. Sgarbi e l'ex ministro Giulio Tremonti, con il quale aveva scritto il libro Rinascimento. Con la cultura non si mangia, si candidarono come governatori alle elezioni regionali in Sicilia del 2017 con Rinascimento e Moderati in Rivoluzione, Mir. Il 29 settembre ritirò la sua candidatura in cambio della promessa di essere nominato assessore alla cultura se Nello Musumeci, candidato del centro-destra, avesse vinto. Il 29 novembre 2017, Sgarbi fu infatti nominato assessore ai beni culturali e all'identità siciliana dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci. In vista delle elezioni politiche italiane del 2018, il 28 gennaio, con la sentenza di Cassazione numero 1-2018, il Movimento Rinascimento decise di rimuovere il nome Sgarbi dalla lista Rinascimento Sgarbi, Mir, in Friuli Venezia Giulia e si federò con Forza Italia. Sgarbi fu designato da Forza Italia come candidato della coalizione di centro-destra nel collegio uninominale Campania 1-3, a Cerra, dove fu nettamente sconfitto da Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, 63,41 contro 20,37%. Alle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, Sgarbi fu eletto sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo, con il 58,79% delle preferenze, superando Luigi Di Mauro, che ottenne il 41,21%. Il 4 ottobre dello stesso anno, Sgarbi decise di lasciare il gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, dopo che Silvio Berlusconi annullò la sua visita a Sutri e si iscrisse al gruppo misto. Il 6 dicembre 2019 aderì a una nuova componente del gruppo misto, Noi con l'Italia Usei Cambiamo, alleanza di centro. Il 27 dicembre seguente fu annunciato come candidato capolista di Forza Italia alle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio 2020 per le province di Bologna, Parma e Ferrara. Risultò essere l'unico eletto di Forza Italia, ottenendo 1.605 preferenze a Bologna, 755 a Parma e 741 a Ferrara. Tuttavia non potesse sedere nel Consiglio regionale a causa dell'incompatibilità tra il ruolo di deputato e quello di consigliere regionale. Il 18 febbraio 2021 si astenne dal votare la fiducia al governo Draghi, contrariamente agli altri membri della componente di Noi, con l'Italia Usei Rinascimento ADC. Il mese successivo dichiarò di aver contratto il Covid-19 senza saperlo e di avere un tumore. Critico della gestione della pandemia di Covid-19 in Italia, il 23 marzo 2022, durante un'assemblea nazionale, presentò il simbolo di Io apro rinascimento, insieme a ristoratori e commercianti disobbedienti alle restrizioni imposte dal governo e all'obbligo del Green Pass. Nello stesso anno fu nominato assessore alla bellezza a Viterbo. Tuttavia, il 27 luglio 2022, Ciamai o apro, interruppe la collaborazione politica con Rinascimento a causa dell'intenzione di Sgarbi di candidarsi alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre all'interno della coalizione di centrodestra. Sgarbi viene candidato al Senato nel collegio uninominale Emilia-Romagna, 03, Bologna, e come capolista nel collegio plurinominale Lombardia, 02, che include Milano e Monza, con la lista Noi moderati, composta da Italia al centro, Noi con l'Italia, Coraggio Italia e Unione di centro. Con 187.206 preferenze, pari al 32,32%, Sgarbi perde contro Pier Ferdinando Casini, che ottiene il 40,07%, e non viene rieletto in Parlamento, poiché la lista Noi moderati non supera la soglia di sbarramento del 3%. Nel collegio uninominale Valle d'Aosta, 01 Giovanni Girardini, candidato della lista di Sgarbi la Renaissance Valdotene, arriva terzo con l'11,9%, dietro al candidato del centrosinistra Franco Maness e a quello del centrodestra Emili Rini. Nonostante la mancata rielezione, il 2 novembre dello stesso anno Sgarbi diventa sottosegretario al Ministero della Cultura nel nuovo governo Meloni. Alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia del febbraio 2023, viene presentata la lista Noi moderati, rinascimento Sgarbi a sostegno dei candidati del centrodestra Francesco Rocca e Attilio Fontana, con Sgarbi candidato come capolista in entrambe le regioni. Risultando l'unico eletto in Lombardia con 873 preferenze, mentre nel Lazio ottiene 699 preferenze, piazzandosi terzo nella sua lista. Sgarbi annuncia di non assumere l'incarico di assessore regionale, scegliendo di rimanere consigliere per responsabilità verso gli elettori. In vista delle elezioni amministrative di maggio, non si ricandida come sindaco di Sutri, in polemica con Fratelli d'Italia, che preferisce un candidato vicino a Casa Pound. Invece si presenta ad Arpino, un comune di 6.700 abitanti della provincia di Frosinone, con la lista civica Rinascimento per Arpino, Sgarbi sindaco, risultando eletto sindaco con il 44%. Contemporaneamente è candidato capolista della lista Celentano sindaco, Rinascimento Sgarbi fare Italia, alle comunali di Latina, sostenendo Matilde Celentano del centrodestra, che vince le elezioni. Anche se non viene eletto, la sua lista ottiene il 15% dei voti, diventando la seconda della coalizione dopo Fratelli d'Italia e eleggendo cinque consiglieri. La settimana successiva si dimette da consigliere regionale della Lombardia a causa dell'incompatibilità tra questo incarico e quello di sottosegretario. Il 2 febbraio 2024, a causa di una violazione della legge Frattini, l 215-2004 article 2,1 lettera D, riguardante l'incompatibilità per chi ricopre cariche di governo, annuncia le sue dimissioni da sottosegretario al Ministero della Cultura. Tuttavia, il 4 febbraio ritratta, dichiarando di voler negoziare la situazione con il governo. Nonostante l'accettazione delle dimissioni da parte della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il 5 febbraio, Sgarbi congela unilateralmente le dimissioni e presenta ricorso al Tar del Lazio. Il 9 febbraio, dopo un ulteriore incontro con la Presidente Meloni, dichiara di essersi nuovamente dimesso con le dimissioni ufficialmente accettate e operative dal 13 febbraio.